oh amore amore mio oh sei ballando questo qua che bella musica e lo sa quale è questo qua si chiama babbara pietra rossa sai dita giusta e anche pedalezza si chiama noi chiamiamo carote rosse e per inglese si chiamano bizzi ma queste qua sono buone per il cuore e il sangue ma una volta io mi avevo mangiato assai pure mia nonna e aveva pesciato il sangue e non aveva paura un altro po' la chiamava ambulanza e dopo ha domandato al medico e ci ha detto tutto ha mangiato questo qua le carote rosse eh si e chi è stato e anche oggi cuciniamo questo qua rostuti in giù al forno italo canadien sta ascoltati ah no no questo davvero ah chi è il giusto di carote rosse che hai mangiato eh ah ah questo la hai mangiato che tengino tutti tutti in giù hai e� gosani eh ah ah no qui ci si mo' non la mo belle'anice e'핑i guarda, guarda, ora questo cavolo lo tagliate ai spicchi da così e ora ci prendiamo olio d'aliva e sale, e sale e basta mescato, mescato e dopo io mi ho preparato una bella tiglia per la mettere dentro il forno e il forno di 250 e cucina quando si tende bene, non per caccia fa 20 minuti nella mezz'ora, dipende con questo qua la mettiamo aggiungere, pinge una cosa adesso, questo qua e ora il forno ancora deve essere scaldato guarda, guarda come sono belle queste sono crudine, ora mettiamo dentro il forno a 350 per 20 minuti e per una mezz'ora, quando si tende le caccia è come una patata e ora mettiamo il forno a 500 e cucina ah, avete visto? eh, 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 ah, eh, ma aspettiamo 20 minuti eh, anche ci ho messo giusto una poca d'acqua eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, just, non poco eh, eh, sennò, si bruciano eh, 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 signore, signore, eh, ah, ma sono passate eh, ma è stata stare re mezz'ora ma ora veniamo leggero al forno come sono aspetta ma abbiamo quanto scusa